Un uomo di nazionalità straniera ha aggredito i carabinieri con bastonate e pugni. E' stato fermato con uno spray urticante e arrestato dai carabinieri di Stornarella. I militari avvertiti da una richiesta al 112 da parte di alcuni vicini per le urla provenienti nell'abitazione del soggetto, poi arrestato, sono giunti immediatamente sul posto, cogliendo in flagranza l'uomo mentre aggrediva la moglie. Alla vista dei carabinieri l'uomo con un bastone si è scagliato subito contro gli stessi e ne ha colpito uno al braccio facendolo cadere rovinosamente a terra, non riuscendo a riportarlo alla calma. I militari hanno dovuto inevitabilmente utilizzare lo spray in dotazione istituzionale e nonostante tutto l'uomo ancora furioso e in pieno delirio ha anche tirato un pugno al volto all'altro militare finalmente bloccato e è stato arrestato. A Cerignola invece i carabinieri sono intervenuti in via di Ponente poiché un uomo stava brandendo un'ascia ed intimoriva i passanti impedendo loro di fatto l'ingresso negli esercizi commerciali presenti in quell'area. Sopraggiunti sul posto i militari disarmavano l'uomo riuscendo quindi ad evitare conseguenze ben più gravi, dopo ciò l'uomo ha cercato di darsi alla fuga a bordo di uno scooter ma è stato subito dopo bloccato e arrestato. Sempre a Cerignola un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza mentre era a bordo di un'autovettura di sua proprietà dopo aver incrociato la pattuglia dei carabinieri ha cercato di evitare il controllo dei militari ponendo quindi in essere manovre spericolate e mettendo in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada oltre che dei militari stessi. Un inseguimento, questo durato qualche chilometro dove il soggetto in questione ha addirittura raggiunto pericolose ed elevate velocità muovendosi anche a zigzag. Ad un certo punto l'uomo ha anche cercato di abbandonare il mezzo tra le campagne di fuggire così a piedi ma è stato raggiunto subito dopo e bloccato. E' stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria di Foggia che il giorno dopo ha convalidato la relativa misura precautelare.